Eccoci di nuovo in diretta per questo nostro buongiorno Friuli. Cominciamo il nostro approfondimento che oggi ci porterà alla scoperta di alcune ville e chiesette che saranno aperte in questo fine settimana in occasione di una manifestazione organizzata da itineraria e anche dai comuni del cosiddetto PIC. Tra poco scopriremo bene a cosa corrisponde questo acronimo assieme al sindaco di Lestizza, a Geremia Gomboso. Buongiorno e benvenuto in studio sindaco. Siamo assieme a Stefano Giovampietro. Ciao Stefano che sta già smanettando sul computer per connettersi ai principali siti di informazione e darci tutte le ultime novità. Siamo in collegamento anche con Valentina Bearsi. L'avete vista prima da Santa Marizza di Varmo, una delle località in cui è presente una delle ville che si potrà visitare questo fine settimana. Tra poco andremo da lei. Prima però il sindaco ci spiega cosa significa PIC. Cos'è questo progetto? PIC vuol dire progetto integrato cultura. È nato negli 11 comuni che fanno parte del medio Friuli, a cui però si è aggiunto Fraibano, Rivignano, Teor, Muzzana e ultimamente anche Ronchis di La Tisana. Quindi diciamo semplicemente che non è solo il medio Friuli ma abbiamo due forze laterali, una a nord e una a sud. Naturalmente è già quasi una ventina di anni che questi operano. Questo progetto va avanti, diciamo si sta arricchendo ogni anno di nuove iniziative per far conoscere il territorio e tutti i valori che possiamo far conoscere nella nostra terra. Anche perché il medio Friuli è una terra strana, perché abbiamo dei comuni in cui non c'è niente di acqua e abbiamo i comuni sotto le sorgive che invece sono strarichi di acqua. Quindi ci sono anche due particolarità sul territorio. E allora andiamo subito da Valentina Bearzi, andiamo a Santa Marizza di Varmo così vediamo e sentiamo anche dalla voce di Valentina e della sua ospite dove sono e anche cosa accadrà in questo fine settimana. Sì Angela buongiorno, siamo a Santa Marizza di Varmo come hai anticipato, siamo a Villa Bartolini Tammaro e sono con l'assessore alla cultura di Varmo Michela Candido. Una bella occasione questa per scoprire luoghi nascosti che ancora non si conoscono e per raccontare anche delle storie, storie molto interessanti magari inaspettate per località piccole come questa. Esattamente, il nostro territorio non è grandissimo però è molto ricco di cultura, architettura sia privata come potete vedere che religiosa. Il nostro territorio è proprio premio di letteratura e Santa Marizza è proprio il suo fulcro perché ha dato le abitazioni a diversi letteratti da Bartolini dove ci troviamo, a Maldini, ai nuovi letteratti Ravizza e Salvatore Parrino. Oltre a spostarci poi nelle altre frazioni con altri autori come Amedeo Giacomini o De Appollonia. Questa è una delle ville e delle località che saranno aperte a disposizione del pubblico gratuitamente questa domenica. È una manifestazione che man mano, anno dopo anno, diventa sempre più grande. Sì esattamente, siamo già alla settima edizione e c'è un bel risultato da parte del pubblico quindi speriamo che possa procedere negli anni e che diventi sempre più ricca anche con le manifestazioni correlate. Sì anche perché appunto non c'è solamente la visita delle varie dimore, delle varie chiese con le guide di itineraria ma ci sono anche una serie di eventi correlati per fare in modo che l'esperienza sia più ricca possibile. Esattamente, innanzitutto come la manifestazione suggerisce c'è la visita sia alle ville che alle chiesette. Ad esempio qua a Santa Marizza lo spostamento dalla villa alla chiesetta verrà fatto con delle carrozze quindi una cosa abbastanza suggestiva. E poi sempre qua in villa e anche a Rivignano verranno presentate delle pubblicazioni. Qua la verde bellezza mentre a Rivignano Glesiutis che è un approfondimento su tutte le chiesette campestri del Medio Friuli. Ecco, questa è una prima anticipazione Angela, poi noi andremo a scoprire la villa, la villa che è ancora in ristrutturazione quindi sarà aperta al pubblico solamente in parte questa domenica per una villa molto particolare con una storia interessantissima che andremo a scoprire insieme. Ci sposteremo nei locali interni e poi faremo anche un giro qui nel parco, nel bellissimo parco che la circonda. Fra poco. Grazie, grazie a Valentina Beazzi e anche a Fabio Di Bernardo oggi in esterna. Sindaco qua, siamo a Santa Marizza di Varmu appunto per questo collegamento però anche il comune di Lestizza è protagonista in questo fine settimana con l'apertura dei Toresse di Garzit. Giusto? Esatto. Ci racconta qualcosa di questo edificio? Che è uno dei tanti edifici storici, una delle tante ville che si trovano in comune di Lestizza. Beh diciamo che questa insieme a Villa Bellavitis sono state ristrutturate negli ultimi 6-7 anni ma la Toresse di Garzit in particolare proprio la Toresse perché non è un palazzo era una vecchia torre di guardia che poi è stata utilizzata come abitazione e poi abbandonata e in pratica era diventato un allevamento di Colombi. Dovremmo avere anche la foto dalla regia, vediamo se riescono a mostrarci questa Toresse. Era un allevamento di Colombi ci diceva. C'era, se poi chi l'ha ereditata perché era veramente un rudere ha avuto la capacità di ristrutturarla e adesso è diventato veramente un gioiello e da lì si può ammirare tutta la campagna verso Mortegliano tanto per fare un'idea perché quella torre lì era nata proprio per vedere perché le invasioni non si sa come ma arrivavano tutte dalla Napoleonica o dalla strada alta come volete chiamarla e quindi guardavano sempre verso sud. Da lì quindi si vede tutto questo panorama. La casa, questa Toresse è veramente un gioiello e insieme con i proprietari che sono sempre stati disponibili perché facciamo aprire in occasione di festività o di cose particolari specialmente quando c'è Santo Patrono San Biagio o quando c'è San Giacomo perché altra chicca all'estizia c'è la chiesa di San Giacomo in piazza che è una chiesa del 1400 con una pala interessantissima ma quello che è più interessante gli altari sono tutti fatti in cuoio e dipinti su cuoio. Cose che si trovano solo a Venezia, quindi i Fabris che erano gli antichi proprietari di questa chiesa erano probabilmente abbastanza ricchi per permettersi tutto questo. Comunque all'interno della Toressa di Grasì veramente nel cortile abbiamo pensato anche di fare un'esposizione e abbiamo invitato alcuni produttori locali, uno di birra e un panificio pasticceria, per far conoscere anche i prodotti del nostro comune. Il nostro comune è diciamo abbastanza ricco perché oltre a Villa Fabris, la Toressa di Gargì, la chiesa di San Giacomo all'estizia abbiamo Casa Trigatti o Villa Trigatti a Galleriano, Villa Trigatti anche a Santa Maria, però quella diciamo è una Villa Veneta mentre la Villa Trigatti a Galleriano è una casa padronale di vecchi proprietari terrieri. Tra l'altro sono due ville che hanno avuto un ruolo importante durante la guerra. Quella di Santa Maria durante la battaglia di Pozzuolo, quei pochi giorni che durante la battaglia di Pozzuolo era sede del comando italiano, poi scappati gli italiani è diventato comando austriaco, tanto che si vedono ancora sul solaio i disegni lasciati dai soldati austriaci. Quindi poi abbiamo anche il Castelliere, insomma da non dimenticare, poi un vecchio convento dominicano a Nespoledo, anche se purtroppo avendolo diviso fra due proprietà non si riesce a capire al volo, ma con molta perizia, diciamo anche grazie ai proprietari, hanno rimesso a nuovo e si intuisce questo vecchio convento perché c'è anche una parte del vecchio campanile. Però abbiamo messo a disposizione della popolazione alcuni anni fa e ogni volta che c'è la possibilità li apriamo. Ritorniamo allora da Valentina Bearzi adesso, pronta per un altro collegamento e per raccontarci qualcosa di più, qualcosa di nuovo su questa villa, su Villa Bartolini Tammaro. A voi Valentina. Sì Angela, grazie. Qui siamo pronti per provare a fare una visita della villa insieme alle guide di itineraria che domenica appunto saranno protagoniste, raccontando ogni dettaglio della villa. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori e allo studio. Domenica 8 ottobre, per tutta la giornata nei sei comuni che aderiscono quest'anno all'edizione 2017, ci saranno le colleghe che accoglieranno i visitatori, i curiosi, i viaggiatori del territorio, per spiegare appunto nelle varie dimore non solo le dimore stesse o le chiese, ma anche il territorio circostante. Di fatto il territorio è ricchissimo di testimonianze archeologiche, documentarie, che ci permettono di risalire fino all'epoca preistorica, nonché all'epoca romana, quando questo territorio, solcato da arterie che dipartivano dalle strade principali, vedevano la presenza di castelli che controllavano appunto l'accesso su queste strade, che portavano spesso ai guadi del tagliamento, come nel caso di Santa Marizza, e che di questi castelli spesso si perde la memoria, una memoria documentaria, una memoria archeologica, ma che a volte si cela sotto le fondamenta delle dimore storiche che oggi noi vediamo. Nel caso del territorio di Varmo sappiamo della presenza di sette castelli, sappiamo che questa presenza dei castelli era determinata dalla necessità di difendere il territorio a seguito delle invasioni degli Ungari e di uno spopolamento che noi abbiamo a seguito di queste incursioni particolarmente bellicose, tanto che bisogna importare, fra virgolette, delle popolazioni di origine slava dalla Carinzia. Toponimi come Santa Marizza, Gradiscutta, Gradisca, ricordano proprio l'insediamento di questi popoli. Quindi parlando delle ville si parla naturalmente del territorio della storia del passato, ma nel contempo anche dei periodi di maggiore spensieratezza, come testimoniano queste forme architettoniche molto più dolci rispetto ai castelli fortificati e molto più affascinanti e molto più suggestivi nel contempo. Questa è un'analisi intanto di contesto in cui spieghiamo qual è la storia più antica di questo territorio, però ville come questa, dimore storico come questa, nascondono tanti piccoli dettagli, anche più recenti, che andremo a scoprire man mano. Noi ci spostiamo Angela, ci risentiamo fra pochissimo. Grazie, grazie a Valentina Beazzi e alla sua ospite. Rientriamo in studio. Eravamo fermi a Lestizza, al castelliere di Lestizza, che quanto a anzianità sindaco batte tutte queste ville, giusto? Direi di sì, direi di sì, perché parliamo di 4.000 anni fa e quindi li battiamo, anche se su questo li battiamo. Però c'è una sintonia fra quanto diceva, perché i territori del medio Friuli sono stati sì ripopolati dopo l'invasione dagli Ungari, ma Lestizza, Sclaunico, sì, sono tutti toponimi slavi, io non dico sloveni, slavi per capirsi, perché altrimenti c'è la confusione. Quindi queste zone sono state ripopolate, per poi Lestizza, Glaunico, comune di Camino, perché ho parlato solo del comune di Varmo, ma tutta questa farsa è stata ripopolata da popolazioni appunto provenienti dall'attuale Slovenia o dall'attuale Austria, ecco, con popolazioni, perché non era rimasto niente se non le ossa. Quindi al di là poi del castelliere, quella cosa strana, perché noi vogliamo rilanciare un attimo, far conoscere i prodotti delle nostre zone, non solo del comune dell'Estizza, perché noi siamo delle zone agricole, perché l'Estizza, per fare un appunto, è l'unico comune, penso che non abbia una zona industriale, una zona commerciale. Poi torneremo su questo particolare davvero curioso per l'Estizza. Però abbiamo 40 grandi aziende agricole, non dico cosa fanno, ne parleremo dopo. Quindi poi se ci spostiamo, saltando un attimo l'Estizza, andiamo verso Basiliano, Basiliano invece ha solo ville padronali. Idem anche Sedelliano in parte, invece poi anche delle ville di More, noi li chiamiamo veneziane per capirci, perché nel 1700 ne ha fatte parecchie i veneziani. E poi scendiamo verso il sud, ma però abbiamo la divisione, finisce la terra dei sassi, incomincia la terra delle acque, che probabilmente erano più ricche delle nostre, perché noi per bere, almeno fino a quando c'era l'Austria, poi hanno cominciato le bonifiche, avevamo semplicemente i famosi sways, dove c'era l'acqua, dove si dava da bere, ci si lavava, si lavava, no? E quindi meno male che è cambiato quando è stato scoperto che questo provocava il tifo e quindi grandissime epidemie. Sicuramente. Apriamo adesso una piccola parentesi dedicata alle previsioni del tempo. Questa mattina non l'abbiamo fatto a inizio della nostra trasmissione, lo facciamo adesso e allora ci colleghiamo con l'Osmer Arpa. Oggi al telefono con noi abbiamo Arturo Puccillo. Buongiorno Arturo. Buongiorno a tutti. Contaci tutto, cosa dobbiamo attenderci per quanto riguarda il meteo per la giornata di oggi e poi butteremo un occhio anche al fine settimana, perché oggi è venerdì e in tanti vogliono sapere come sarà il tempo sabato e domenica. Cominciamo dalla giornata di oggi. La giornata di oggi vede il passaggio di un fronte freddo sulla vicina Slovenia che ci interessa con la sua parte di coda e quindi ancora hanno veramente qualche pioggia rovescio sulle estreme zone orientali tra le province di Gorizia e Trieste. Per il resto invece già ci sono delle schierite, un miglioramento più convinto in Carnia e che prenderà piede poi nel corso della giornata. E avremo vento di borra anche sostenuto sulla costa moderato però da est o da nord-est anche sulla pianura. Le temperature saliranno fino a 18-20 gradi in giornata per scendere poi in serata appunto con una diminuzione al di sotto dei 10-15. Per quanto concerne la giornata di domani ci aspettiamo a cielo in genere sereno, poco nuvoloso, vento alla nord in quota in montagna, brezza su pianura e costa. Fa piuttosto fresco al mattino, poco sopra i 5 gradi le minime in pianura, intorno ai 10-12 sulla costa massime, probabilmente raggiungono i 20 gradi sia in pianura che sulla costa. Domenica sostanziale variabilità ma con una tendenza, la prevalenza di cielo poco nuvoloso sulla costa e poi anche in montagna e per quanto concerne le temperature saranno in lieve aumento, sempre sotto i 10 gradi le minime in pianura, intorno ai 12-13 sulla costa massime di nuovo 18-20 gradi. Venti tutto sommato deboli, prevalentemente meridionali. E direi che è tutto. Grazie ad Arturo, però io mi fermerei ancora un attimo e ti chiederei anche un'indicazione magari più specifica per quanto riguarda il vento per la giornata di domenica, visto che c'è la barcolana, ne abbiamo parlato anche ieri, venti deboli anche per la giornata di domenica? Sì, ci aspettiamo venti, tutto sommato al momento, prevalentemente deboli, però non dovremmo essere assenti anche in questo senso, nelle ore della tarda mattinata, prima pomeriggio che riguardano poi la regata, dovremmo avere un vento tra sud e sud-ovest, tutto sommato a qualche nodo per usare appunto l'unità di misura tipica dei veristi che potrebbero consentire quindi comunque lo spostamento delle barche. Perfetto, grazie, grazie ad Arturo Puccillo per queste previsioni, insomma ci aspetta un fine settimana, tutto sommato bello, per quanto riguarda il tempo, fresco, con temperatura in diminuzione, ma bello, non ci sarà pioggia, non pioverà. Grazie agli esperti dell'Osmer Arpa anche per queste previsioni. Stefano, non abbiamo fatto ancora il consueto aggiornamento di cronaca, se c'è qualcosa ti passo la linea. No, no, ti volevo ovviamente aggiornare perché è un argomento che avevo cominciato anche nella rassegna stampa sportiva, ci sono le qualificazioni mondiali che hanno visto dei risultati importanti, soprattutto nella notte, quelli che riguardano il Sud America, ne abbiamo parlato a tantissime riprese per i nostri argentini, De Paul e Maxi Lopez, che oggi, questa notte, avranno sicuramente guardato la partita. Non è andata benissimo per quanto riguarda proprio la formazione argentina che è stata fermata sullo 0-0 dal Perù. Questo è il risultato. Ecco qua, Argentina-Perù 0-0, poi ci sono state Cile-Equador 2-1, Colombia-Paraguay 1-2. Questo però è un risultato che ha fatto molto comodo all'Argentina. Adesso vedremo perché nella serata, alle 23, alle 22, erano iniziate anche Venezuela-Uruguay e Bolivia-Brasile, finite anche tutte queste 0-0, quindi pochi gol nella giornata di oggi. Quindi il Brasile, che è comunque un pareggio che fa poco male, visto che è rimasto primo e già qualificato al Mondiale. L'Uruguay ci è abbastanza vicino, avrà bisogno soltanto di un punto nella prossima partita. Cile con la Colombia a 26. Al momento l'Argentina finisse adesso la corsa ai mondiali, rimarrebbe fuori e sarebbe un evento assolutamente storico, però l'incrocio di partite della prossima giornata vedrà l'Argentina sfidare l'Equador fuori casa. Una vittoria potrebbe essere sufficiente perché si sfideranno la quarta e la quinta, che sono Colombia e Peru, quindi in caso di vittoria l'Argentina passerebbe, ma comunque il male da mettere perché visto il trend delle ultime partite, come si vede qui, sono appunto una sconfitta e tre pareggi nelle ultime quattro, quindi non benissimo per l'Albi Seleste che è in netta crisi e perdesse il Mondiale sarebbe sicuramente una notizia con grandissimo risalto anche in tutto il mondo. Speriamo che non sia così perché insomma... Per i nostri argentini no. Poi non vogliamo tirarla al Perù, poverini. Certo. Sognano di tornare al Mondiale. Non ci tornavano, tra l'altro, non partecipano al Mondiale dall'82 quando aveva vinto l'Italia, quindi magari si può fare il tifo per il Perù. Per il Perù. Per scaramanzia. Benissimo. Allora, ritorniamo adesso da Valentina Bearzi a Villa Bartolini Tammaro a Santa Marizza di Varmo. A voi la linea Valentina, vedo che siete entrati nei locali di questa splendida dimora. Sì, grazie Angela. Ecco, siamo entrati nel Salone Centrale, molto suggestivo perché ha due ingressi, uno di fronte sul lato che dà verso il paese e invece l'altro ingresso speculare di fronte proprio da sui campi e poi sul parco della villa. Sono con Gian Paolo Tammaro che è il responsabile dei lavori della villa e gestisce la villa e fratello dell'ex comandante delle frecce tricolori che ha acquistato di recente questa dimora. Una scelta, mi pare di capire, maturata durante gli anni in cui ha lavorato qua e si è un po' innamorato di questa struttura. Sì, diciamo che mio fratello è già da parecchi anni che diciamo aveva visto questa villa e se n'era innamorato e mi raccontava sempre che siccome lui veniva spesso con la pattuglia qua a mangiare qua da vicino al ristorante qui a Gradiscutta spesso mi diceva io andavo lì davanti al cancello guardavo la villa dentro e dicevo questa un giorno sarà mia un giorno sarà era un suo sogno che si è realizzato ed è un sogno che si è dato perché mi fratello è sempre stato un grande appassionato d'arte e ha voluto acquisire questa villa proprio perché per il suo amore dell'arte lui non ha mai voluto prenderla per residenza personale o privata ma proprio perché lui aveva sempre avuto il sogno di acquisire una residenza storica diciamo da poter rendere pubblica fruibile al pubblico infatti quello che sarà lo scopo di questa villa sarà diciamo essere un centro eventi per manifestazioni concerti o qualsiasi manifestazione che poi possa essere proposta che noi siamo aperti a qualsiasi iniziativa ovviamente valutata però sì c'è il scopo della villa questo sarà l'intento proprio in linea con quello che dicevamo prima cioè col respiro di cultura e di letteratura che si ha in queste zone poi lo scopriremo anche meglio perché ci sono delle opere d'arte nel giardino ci sono delle storie interessanti proprio di scrittori che hanno abitato qua in primis appunto Elio Bartolini quindi una bella immagino anche una bella soddisfazione essere proprietario di una villa con questa storia assolutamente sì diciamo che è una diciamo un valore in più di questa villa mio fratello ha avuto la fortuna di trovare una residenza comunque storica ben tenuta perché comunque insomma lui ne aveva visitate tante altre ha detto che comunque erano stati non proprio diciamo perfetti e questa era ben tenuta abitata da uno scrittore comunque contemporaneo molto famoso in Italia e infatti diciamo ma giustamente ha detto prima lei purtroppo la villa in fase di restauro nel senso che stiamo recuperando tutti i decori che erano diciamo nascosti negli arco dei secoli negli arco degli anni questa è la prima prova che vedremo che sarà visitabile durante la domenica che è il salone centrale del piano terra e una delle stanze che sarà visitabile sarà proprio la stanza da letto di Bartolini che è rimasta esattamente mutata come era quando lo abitava lui perciò comunque è una sorta di piccolo museo dedicato a Bartolini perché la stanza sarà esattamente quella che era quando lui abitava qua esatto quindi il salone centrale il parco e poi un paio di stanze al piano superiore questo è quello che si potrà vedere con alcuni mobili anche dell'ottocento assolutamente ci sono mobili antichi ci sono ancora un paio di stanze comunque anche il pianterreno che saranno visitabili tra cui i locali della barchessa comunque sono molto caratteristici e anche per chi verrà si potrà vedere diciamo una cosa che è poco tipica di una villa veneta che è il classico fogolare friulano che è all'interno della barchessa che per chi non per i profani la barchessa sarebbe la costruzione laterale attaccata alla villa che è il corpo nobile però ci saranno alcune stanze che saranno comunque di interesse con auguri anche mobili antichi anche rappresentazioni grafiche antiche qualche stampa di pregio insomma diciamo che credo che ne valga la pena ne valga la pena sicuramente quindi appuntamento a domenica noi adesso ti restituiamo la linea Angela e poi ritorneremo ancora per raccontarvi qualche storia nascosta di questo luogo grazie grazie a Valentina Bearzi e noi adesso siamo vicinissimi alla pausa pubblicitaria quindi io direi di fermarci un attimo passiamo la linea alla regia per la pubblicità e poi di nuovo assieme per l'ultima mezz'oretta di questo Buongiorno Friuli e siamo di nuovo in diretta assieme dal nostro studio di Udine per proseguire questo nostro Buongiorno Friuli che ci sta portando a scoprire una delle ville che in questo fine settimana apriranno i battenti al pubblico nell'ambito dell'iniziativa Ville Chiesette Aperte nel Medio Friuli ne parliamo in studio assieme al sindaco di Lestizza Geremia Gomboso Lestizza che è uno dei comuni che fanno parte di questo progetto assieme a Stefano Giovampietro che è con noi pronto a darci tutti gli aggiornamenti assieme a Valentina Bearzi in collegamento da Santa Marizza di Varmo dove si trova Villa Bartolini Tammaro Valentina qualcosa ci avete già mostrato prima adesso vi diamo di nuovo la linea per scoprire qualcosa di più in anteprima su questa storica villa voi grazie Angela sono ancora con Sandra Guatto dell'associazione itineraria che ci spiegherà qual è la storia così antica di questa villa si si tratta di un sito molto particolare perché vede delle sovrapposizioni nel corso dei secoli si parla di un la presenza di un monastero anche se non è ben identificato esattamente come questo monastero si sviluppasse sul territorio senz'altro comunque un'indicazione di tale presenza sono gli affreschi che si trovano attualmente sulla facciata fronte strada di quello che poi è diventato un rustico dell'attuale villa fu infatti oltre che una chiesa nell'antichità in seguito una filanda e deposito poi di attrezzi agricoli in epoca moderna il complesso invece che vedete alle nostre spalle è proprio il complesso padronale probabilmente nasce nella seconda metà del 1600 diversi sono le famiglie citate nei documenti come proprietari di questa area si va dalla famiglia agricola e mantica e ai cernazai che hanno ereditato appunto questo territorio dai carnelli sarà proprio ai cernazai che viene imputata la costruzione nella seconda metà del 1600 di questa villa una famiglia di origine forse ungherese o croata che arriva a Udine come molti commercianti ed artigiani e grazie all'ingegno e alle loro capacità riescono a diventare una delle famiglie più benestanti acquisendo proprietà su tutti i territori friulani nel corso poi dei secoli successivi al 1600 la proprietà passa ad altre prestigiosi famiglie per arrivare all'epoca recente alla famiglia Canciani-Florio la famiglia Canciani è una famiglia molto importante nel territorio di Varmo in modo particolare con Giacomo Canciani che muore giovane muore 49enne esperto zootecnico che lascia alla figlia Giuliana la proprietà appunto delle terre qui a Varmo e a Santa Marizza Giuliana forse è il personaggio più noto che noi abbiamo nell'epoca moderna perché il suo matrimonio nel 1936 a Varmo con 400 invitati che provenivano da tutta Italia fu ancora oggi uno degli episodi più ricordati dalla comunità ma forse la sua vicenda personale peraltro ricordata in un testo molto interessante l'imperatrice del mais un testo che venne scritto da Liliana Carnieluti ma con dei testi anche di Sergio Maldini ci parla di una donna molto tenace rimasta vedova giovane giovane madre si iscrive alla facoltà di agraria a Bologna e riesce a gestire il patrimonio lasciatogli dal padre ma anche dal marito Francesco Florio che muore nei cieli di Tobruk insieme al cognato Itola Balbo e insieme ad altri dieci aviatori questa villa non verrà abitata però dalla famiglia Canciani sarà una villa utilizzata a fini agricoli e purtroppo anche l'uso degli ambienti interni sarà anche quello di deposito di attrezzi agricoli di granaglie e il pavimento all'interno della villa infatti nel salone che avete visitato è frutto di una ristrutturazione degli anni 70 il pavimento in cotto purtroppo era troppo mal conservato per poterlo restaurare ed è interessante comunque questa ristrutturazione del pavimento perché ci ricorda anche una tradizione che noi abbiamo nel territorio friulano quelle delle maestranze locali parliamo della zona di Sedegliano ma saliamo fino a Arbas e qua al Spilimbergo dei maestri terrazzieri quindi anche il restauro curato degli anni 70 come quello attuale dei proprietari che oggi hanno realizzato un lungo impegnativo cantiere permette di riscoprire parte appunto di questo patrimonio storico artistico architettonico ma anche di sottolineare la capacità del saper fare di questa gente di queste terre e qui arriviamo all'acquisto da parte di Elio Bartolini che però sarà l'ultimo capitolo prima poi di spostarci alla chiesetta Angela quindi a fra pochissimo e allora in attesa del prossimo capitolo di questa storia rientriamo un attimo in studio sindaco dicevamo tanti comuni coinvolti in questo progetto divisi proprio da questa linea delle risorgive possiamo dire così i sassi in alto l'acqua in basso la cultura in basso l'enogastronomia in alto no possiamo azzardare questa divisione in questa occasione si è così anche perché appunto tra le realtà aperte in questo fine settimana c'è anche il museo del vino e del vetro di Pietro Pittaro a Codroipo dovremo avere anche alcune immagini che appunto ci mostrano un po' questa realtà che è una bella realtà del nostro territorio poi c'è Sedegliano che è aperta la casa natale di padre Turoldo esatto poi il parco di Bertiolo del come si chiama Sterpo Villa Colore Dovenier Villa Colore Dovenier e quindi e poi la parte diciamo di Lestizia ecco quindi abbiamo diviso di fatto noi abbiamo curato un po' la parte enogastronomica che forse è almeno conosciuta perché loro in fatto di cultura vi battono vi ci battono Sedegliano no direi che Sedegliano e Codroipo hanno più hanno più sitori Lestizia non ne abbiamo beh diciamo che insomma anche con abbiamo qualcos'altro avete qualcos'altro sicuramente dovremmo avere anche delle belle immagini eccole vediamo di Villa Colore Dovenier a Sterpo di Bertiolo sono delle immagini che abbiamo trovato su Youtube un video realizzato dal collega Antonio Liberti sindaco approfitto di lei perché prima mentre stavamo parlando fuori onda ci chiedeva siete mai stati a vedere Villa Colore Dovenier abbiamo risposto di no è un peccato lei ci ha detto perché è davvero una realtà bellissima è pieno di sorgive diciamo perché c'è l'ostella che Villa Venier in pratica è un'isola sull'ostella perché l'ostella corre di qua e di là e quindi in mezzo è pieno di sorgive e voi camminate sulla terra ma di fatto è un cuscino appoggiato sull'acqua ecco quindi è veramente unico poi c'è questo mulino che si vede c'è dietro la chiesa che è un antico castello e poi qui c'era il palazzo in cui una stanza enorme che adesso è stato trasformato in piscina dove si dice che qui ci fossero il tribunale del locale per quanto riguardava questa vicinia non solo di Bertiolo ma curava anche i territori limitrofi era sede di un tribunale c'erano anche gli scanni io mi ricordo da piccolo che ero stato a vedere ecco questo qua che adesso è stato trasformato in piscina quindi un luogo ricco di storia ma anche un luogo bello dal punto di vista ambientale perché come abbiamo visto è davvero unico vediamo se riusciamo a ritornare da Valentina Bearzi per un altro collegamento e per arrivare appunto alla storia di questa villa legata al poeta Elio Bartolini a voi Valentina sì Angela siamo ovviamente sintetici perché le cose da raccontare ce ne sarebbero veramente tantissime la signora Sandra Guatto è preparatissima però dobbiamo per forza obbligarla a essere più sintetica perché ovviamente le cose sono abbondanti ma siamo arrivati finalmente ai giorni nostri più o meno quindi all'acquisto di Elio Bartolini della villa sì Elio Bartolini acquista questa villa perché rimane affascinato da questo luogo a caso nei suoi testi vedremo spesso citato il territorio di Varmo ma anche la stessa Santa Marizza la località di Santa Marizza però diventa un pollo di attrazione non solo per Elio Bartolini ma anche per molti altri scrittori pochi anni dopo infatti sarà Elio Bartolini che interviene a favore di Sergio Maldini nei confronti di Giuliana Canciani Florio per l'acquisizione di un rustico proprio annesso alla villa Bartolini questo rustico è l'attuale Canevon che viene utilizzato dalla comunità di Varmo per degli incontri culturali e oltre al rustico anche un altro edificio che verrà restaurato in maniera puntuale dall'architetto Cester Tuso e sarà la casa di Maldini ma Maldini non è l'unico affascinato da questo luogo perché esattamente dall'altro lato della villa quindi se la casa Maldini si trova sulla destra dall'altro lato sulla sinistra ai nostri spalle abbiamo la casa dello scrittore Salvatore Rante Parrino e di Federica Aravizza Federica Aravizza che è anche protagonista importante all'interno di questa comunità poiché lei ha realizzato la decorazione dell'immagine dell'assunta proprio su un capitello su un'edicola appunto che si trova qui a fondo sul fondo della via di Santa Marizza Capitelli Altaroli sono presenti su tutto il territorio e questi luoghi saranno oggetto di devozione non solo nei tempi passati ma anche fino all'epoca più recente poiché si trovavano lungo il percorso delle processioni per le erogazioni che venivano fatti nel mese di aprile sperando e auspicando con il favore chiaramente della Vergine e dei Santi che i seminativi andassero poi a buon fine con un'ottima produzione e la testimonianza che effettivamente questo era in antichità un luogo di culto ce l'abbiamo alle nostre spalle esattamente sulla parete alle nostre spalle c'è un piccolissimo frammento la datazione del XV secolo dove si intravede un'immagine di un santo solo la testa e un bastone un bastone di un pellegrino potrebbe essere interpretato come San Rocco o come San Giacomo ma spesso i Santi non sono sufficienti a essere invocati per essere salvati naturalmente dalle avversità che la vita presente ci sono anche delle streghe che concorrono a fini teorapeutici c'è un interessante documento di un processo del 1648 che ci racconta proprio di una donna domenica di Santa Marizza che viene appunto processata insieme ad una donna di Belgrado poiché le due donne si trovano coinvolte in un episodio indicato come stregoneria e qua di episodi ce ne sono tantissimi Angela decapitazioni bravi scontri armati nel medioevo insomma ce ne sarebbero davvero tanti e se volete scoprirli tutti vi consigliamo di venire qua domenica prossima salutiamo anche il padrone di casa Gian Paolo Tamaro è stato un vero piacere in bocca al lupo anche per il restauro della villa che comunque immagino sarà impegnativo sarà impegnativo è lungo perché comunque in tempistiche moderne giusto per farle un esempio soltanto per il salone centrale che abbiamo intravisto nelle riprese c'è voluto quasi un anno di lavoro perciò insomma è previsto nell'arco del tempo almeno 5-6 anni per riuscire a riportare alla luce tutto quanto quello che c'è da scoprire in bocca al lupo buon lavoro noi speriamo ovviamente che sia presto disponibile al pubblico grazie per averci dato quest'anteprima Elio Bartolini che ha vissuto qui riposa anche nel cimitero di Santa Marizza dove adesso andiamo per un ultimo collegamento grazie grazie Valentina ci risentiamo tra poco vi lascio spostare nella chiesetta di Santa Marizza così diamo uno sguardo anche a quest'ultimo luogo che appunto domenica sarà aperto al pubblico sindaco rientrando in studio dicevamo 11 comuni che fanno parte di questo progetto andate tutti d'amore d'accordo 11 più 4 11 più 4 che fanno parte di una zona più a sud è una zona a nord diciamo perché Fraibano poi è a nord rispetto al Medio Friuli non c'è mai stata nessuna divisione di colore perché su questo siamo strauniti e i progetti sono sempre condivisi abbiamo capito che dobbiamo valorizzare i nostri territori perché altrimenti nessuno comprende quanto sia la storia dispiace un po' che un Lignano dorma su queste cose come le dicevo prima perché sarebbe importante che Lignano riuscisse a fare una diciamo una specie di collaborazione con i comuni che hanno or perché quando piove a Lignano dove vanno? c'è un retroterra ricco di cultura di cose da scoprire a un quarto d'ora di macchina senza tanti senza tanti giri perché poi se proseguiamo sulla linea di tagliamento le chiesette di qua e di là con San Cristoforo dipinto dappertutto è veramente un capitale unico veramente va scoperto ecco va valorizzato va fatto conoscere Stefano vengo da te c'è qualche aggiornamento qualche ultimora? Sì facciamo un paio di aggiornamenti dal mondo prima magari anche di dare altri risultati calcistici però sono due le ultime ore battute che riprendiamo da TGcom24 la prima riguarda il bilancio purtroppo delle vittime che sale della tempesta Nate sono 22 le vittime in America centrale dichiarato lo stato di emergenza in Costa Rica Nicaragua e Honduras proseguono le ricerche di oltre 20 dispersi per appunto la tempesta che dovrebbe diventare secondo gli esperti un uragano di categoria 1 prima di arrivare negli Stati Uniti domenica questa appunto la notizia purtroppo ormai frequente degli uragani e delle tempeste che imperversano nel nord e centro America e poi invece sul versante della pedofilia c'è l'udienza a marzo fissata per il cardinale George Pell il cardinale australiano che dovrà affrontare quest'udienza preliminare di 4 settimane con richiesta di rinvio a giudizio per reati di pedofilia storici cioè commessi in tempi non recenti ai danni di diverse vittime la seduta vedrà la deposizione di circa 50 testimoni al fine di stabilire se vi chiano sufficienti evidenze per sottoporre il prelato al processo quindi se vi viene tutto rimandato a marzo per l'eventuale proprio udienza del cardinale George Pell grazie grazie Stefano anche per questi aggiornamenti sul fronte cronaca locale all'omento la situazione è ancora tranquilla non c'è niente di particolare da segnalare e allora io ritornerai con il sindaco di Lestizia su un passaggio che abbiamo fatto prima ha ricordato riguardo in particolare Lestizia proprio una realtà che diceva a base alla propria economia sull'agricoltura ci sono tante stalle ma non ci sono realtà di trasformazione prima mi ha dato un numero che mi ha fatto riflettere 5200 mucche da latte in un momento in cui lo abbiamo letto ieri sul quotidiano locale chiudono tantissime stalle però tutto il latte finisce da altre parti perché questa situazione sindaco diciamo le divisioni fra i vari imprenditori agricoli e un po' le cricche fai paesi di fatto non abbiamo nessuna latteria non abbiamo nessuna trasformazione quindi il prodotto che viene fatto veramente con fatica da questi agricoltori perché lavorano 365 giorni all'anno ma di fatto manca il valore aggiunto che dovrebbe tornare a loro perché il latte va o a latteria friulana o va alla venchiaredo o va alla soligo però vendono il latte ma chi guadagna poi sulla trasformazione a loro non resta niente e guadagnano sempre meno e quindi anche per questo che tante tante aziende agricole chiudono mi sembra un numero sproporzionato quello che dicono i giornali siamo siamo probabilmente in numero inferiore a meno che non si parli di aziende agricole di una mucca ma non esistono due decenni comunque teniamo per buono questo dato il dato è che non è più redditizio questo e poi siamo strapieni di cimici asiatici o locali ma io direi che questo forse è una colpa della monocultura proprio questa monocultura spinta che poi di fatto non dà nessun reddito agli agricoltori quindi bisogna ripensare probabilmente a qualcosa di diverso i nostri vecchi facevano la rotazione questa è sparita maese soia adesso maese soia e budiese abbiamo parlato anche delle cimici asiatiche nei giorni scorsi nel nostro Buongiorno Friuli in particolare per quanto riguarda la produzione delle mele anche in questo caso ma mangiano di tutto sono molto molto dannose mentre vedo Valentina che è entrata nella chiesa di Santa Maria Assunta nella chiesetta di Santa Maria Assunta un piccolo gioiellino attorno al quale c'è anche un cimitero dove è sepolto c'è il sindaco è arrivato il sindaco è arrivato anche il sindaco ci dice il collega gomboso e allora andiamo subito da Valentina Bearzi che vediamo un gioiello si sta preparando per per questo collegamento ecco Valentina adesso è pronto vedo l'inquadratura stabile ci siamo a voi la linea grazie Angela si siamo entrati nella chiesetta davvero suggestivi gli affreschi che abbiamo alle nostre spalle anche questa è una bellissima storia si la chiesa di Santa Maria Assunta è una chiesa che tra origini nel XV secolo come testimoniano gli affreschi nella zona presbiteriale che è la parte più antica appunto della chiesa sono affreschi che sono stati recentemente restaurati grazie ad un intervento della fondazione Krupp e soprattutto della ditta Lizzi che ha riportato grazie ai suoi abilissimi restauratori alla luce queste opere scoperte peraltro solo all'inizio del secolo scorso fra gli anni 30 e gli anni 50 sono opere di grande suggestione non raffinatissime dal punto di vista stilistico ma di una semplicità disarmante soprattutto nella figura di Caino che offre un fascio di frumento alle cui spalle vediamo la presenza di un diavoletto dove dalla bocca gli fuoriesce appunto questa fiamma di colore rosso immagini semplici di un pittore che viene indicato come Gian Paolo Tanner ma altri studiosi ipotizzano anche la presenza per altre immagini un po' più raffinate dal punto di vista sia tecnico che stilistico di Antonio da Firenze sono artisti presenti sul territorio friulano sia nella fascia del medio friuli così come nella zona del tarcentino ed è interessante proprio queste manifestazioni che vanno a ricercare in queste località così al limite delle strade di maggiore percorrenza le testimonianze della devazione popolare ecco la scheda di questa chiesetta è contenuta nella pubblicazione che verrà presentata domenica sì a Chiarmacis di Rivignano verrà presentato un volume intitolato Glesiutis che è un documento importante perché propone appunto tutte le chiese che noi troviamo sul territorio qui tra l'altro intorno alla chiesa c'è il piccolo cimitero di Santa Marizza dove appunto riposano come abbiamo detto prima Elio Bartolini e Maldini esattamente e le loro volontà sono state quelle appunto di rimanere legate a questo territorio e soprattutto ricordiamo che le loro parole verranno ricordati da un attore Marco Somaglini che proprio nella Villa Bartolini affiancherà le guide di itineraria nel rievocare anche attraverso le parole degli stessi scrittori le atmosfere di altri tempi o che noi possiamo cogliere ancora in questa campagna così interessante grazie a Sandra Guatto mentre Fabio fa un po' di immagini e ci mostra che cosa c'è alle nostre spalle noi invece salutiamo anche il sindaco e l'assessore del comune che appunto hanno organizzato insieme al PIC questa importante iniziativa buongiorno intanto buongiorno a voi buongiorno beh io prima di tutto devo ringraziare l'assessore De Candido per tutto quello che ha fatto e che sta facendo per il nostro territorio mi sento orgoglioso di essere il sindaco del comune di Varmo perché è un territorio pieno di storia di culture di tante tante attività ma soprattutto anche di acque pulite perché siamo in zona di risorgive quindi io mi auguro che domenica prossima ci sia tanta gente che il tempo ci sia il sole sia il bel tempo e quindi che venga tanta gente a vedere il nostro territorio noi purtroppo non abbiamo ascoltato le previsioni dell'Osmer Angela quindi non abbiamo sentito come sarà il tempo ma incrociamo le dita ovviamente speriamo che sia una bellissima giornata io che sono un patito dell'Osmer perché ho problemi sempre con i fossi e quindi guardo ogni mattina le previsioni del tempo vi posso garantire che ci sarà il sole benissimo benissimo allora ci conferma il sindaco che sarà una bellissima giornata tanta organizzazione anche da parte dell'assessorato ma non solo perché c'è tutta una rete di comuni l'abbiamo anche sentito in studio che ha lavorato intensamente per questa iniziativa esattamente infatti facendo parte del progetto integrato cultura proponiamo sul territorio diverse manifestazioni una è questa poi a novembre ci sarà la commemorazione il ricordo della prima guerra mondiale mentre durante l'estate la manifestazione più evidente e più seguita è musica in villa che comunque ci sono questi concerti che spaziano in diversi generi e vengono fatti appunto nelle ville in forma gratuita e quindi anche il visitatore oltre ad ascoltare la musica può vedere un ambiente molto accogliente e suggestivo benissimo grazie allora al comune di Varmo grazie a Sandra Guato dell'associazione itineraria grazie ovviamente ai proprietari della villa Bartolini Tammaro da Santa Marizza direi che è tutto ricordiamo che ovviamente tutto questo sarà visitabile in maniera gratuita questa domenica e che ci sarà anche il passaggio dalla villa alla chiesetta con le carrozze insieme ai cavalli quindi un altro un altro tastello in più per rendere la giornata ancora più interessante a voi Angela e buona giornata a tutti grazie Valentina io però prima di chiudere il collegamento ti chiederai di tenere un attimo il sindaco magari uscite all'esterno della chiesa perché in questi giorni si parla molto di Santa Marizza anche per un altro motivo per quella vicenda di avvelenamento da taglio magari tra poco chiediamo al sindaco se ci sono delle novità se lui ha qualche aggiornamento prima però vediamo e scorriamo assieme anche il volantino che è stato predisposto proprio per promuovere questa iniziativa di ville e chiesette aperte che ci ricorda anche gli orari appunto vediamo le visite guidate a cura dell'associazione itineraria dalle 10 alle 13 e dalle 14 e 30 alle 17 e 30 la torre di Garzit con i proprietari dell'edificio quindi la cosa importante di questi eventi è che ci saranno proprio le guide di itineraria che vi racconteranno e spiegheranno come ha fatto con noi oggi Santa Raguato la storia di questi luoghi i luoghi sono Sterpo di Bertiolo Villa Coloredo Venier poi Codroipo il museo del vino e del vetro di Pietro Pittaro abbiamo visto all'estizza le toresse di Garzit a Coderno di Sedegliano Casa Turoldo con la chiesetta di Santa Giuliana e ancora Santa Marizza di Varmo che vi abbiamo mostrato questa mattina e a Chiarmacis di Rivignano Teoro come ci ricordava prima anche Sandra Guatto ci sarà la presentazione di questo libro Chiesette Campestri del Medio Friuli Glesiutis in Furlan e a seguito appunto la visita della chiesetta di Santa Andrea l'ingresso è gratuito e anche questa è una cosa importante importantissima in più nella torre scusa se faccio l'invadente ma abbiamo alle 5 per i bambini momenti di lettura a cura dei lettori volontari del comune che sono parecchi all'interno della torre in questa location particolare un momento dedicato proprio ai bambini e allora ritorniamo adesso da Valentina Bearzi e dal sindaco di Varmo abbiamo cambiato location però insomma un passaggio visto che siamo a Santa Marizza di Varmo sul caso di questi ultimi giorni un caso non soltanto locale ma nazionale si sono mobilitati tutti in media per questi avvelenamenti da taglio Valentina chiediamo al sindaco se lui ha degli aggiornamenti delle novità i risultati di qualche analisi insomma qualche ultima ora sì Angela allora sono ancora con il sindaco Sergio Michelin a cui chiediamo come giustamente hai anticipato quali sono gli aggiornamenti in merito a questa vicenda di cronaca che è finita sulle pagine tutti i giornali ma siamo in attesa di sentire i reperti dell'acqua dei risultati dell'acqua di tutto quello che è stato prelevato qui nella casa di Santa Marizza naturalmente ieri sono state fatte l'autopsia le due persone quindi siamo in attesa dei risultati ieri e oggi sono due giornate che penso siano di pausa ma domani dovremmo avere novità in merito quindi oggi ancora non si sa niente riguardo alle analisi dell'acqua ecco quello che posso dire l'acqua è stato confermato l'acqua è tutto a posto quindi sana tranquilla come volevamo dimostrare sempre dai primi momenti in cui è successo questo fatto qui ci conferma che non ci sono contaminazioni nell'acqua a questo punto bisognerà indagare su quali sono le reali ragioni di questo avvelenamento grazie sindaco per questo aggiornamento e da Santa Marizza è davvero tutto grazie Angela quindi adesso abbiamo capito anche il perché di quel passaggio acque pulite su cui si era soffermato il sindaco nel suo primo intervento un caso questo di cui sicuramente torneremo a parlare perché bisogna capire la causa di questo avvelenamento se davvero è avvenuto a Varmo o nell'altra località nel milanese dove vivevano e vivono le famiglie colpite da questo fatto di cronaca siamo in chiusura grazie anche da parte nostra Valentina Bearzia Fabio Di Bernardo oggi in esterna tutti gli ospiti che ci hanno raccontato e presentato un po' a queste bellezze del nostro territorio grazie al sindaco di Lestizza Geremia Gomboso buon lavoro sindaco Stefano c'è qualche flash qualche ultimora non ci sono aggiornamenti bene bene mattinata è notata tranquilla allora ciao anche a Stefano Giovanni Pietro a Emanuele Sergi e Francesco Snidoro in regia a tutti voi che ci avete seguito e prima di salutarci però ricordiamo come sempre gli appuntamenti di oggi su Udinese TV ecco il box questa sera le 21 tifosi stori Stefano forse tu ci puoi dire qualcosa di più su questo eh sì parte questa rubrica con le storie dei tifosi bianconi riraccontate ovviamente dalla memoria storica dell'Udinese Guido Comilato però è seguire la tu per tu con Maxi Loper per essere realizzato da Maurizio Ferrari diciamo che l'intervista che ha portato particolarmente bene già in cantiere la seconda non vi sveliamo ancora con chi ah va bene intanto ci vediamo Maxi Lopez così scopriamo qualcosa di più su questo calciatore di cui si è parlato tanto ha fatto un bel gol domenica insomma appuntamento questa sera con la tu per tu con Maxi Lopez è davvero tutto grazie e ancora buongiorno Friuli grazie a tutti Grazie a tutti